ciao ragazzi siamo alla fiera di rimini appena adesso un treno sono qui per i campionati italiani fizz 2018 ho qui delle coppie sono qui a fare il massimiliano allegri della situazione insomma adesso entriamo ci posizioniamo e vediamo se riusciamo a portare a casa qualche buon risultato potete leggere l'insegna campionati italiani fizz rimini fiera e c'è sta cazzo di fontana che fa un rumore infernale ma insomma da qua credo che sia tutto più chiaro c'è la federazione italiana e sports presente c'è questo è un videogioco sulla danza sportiva dopo se mi va vengo a provarlo ti uccide proprio altro che sono sudato eccoci qua dunque sono tornato dalla fiera di rimini ieri sera a luna è stata diciamo una toccata e fuga perché soltanto vedere solo quelli di tango argentino ma poi gli altri della scuola della mia scuola andranno avanti a gareggiare anche nel liscio sala ma andrà mio papà con loro che devo dirvi è stata comunque una gita piacevole in quel di rimini mangiato bene come al solito l'accoglienza in riviera è sempre eccezionale alla fine siamo riusciti a portare a casa un titolo italiano per il momento uno solo speriamo nel liscio nel sala di poterne prendere portare a casa di qualcosa di più però diciamo che almeno nel tango argentino un titolo italiano è arrivato non era scontato era una coppia che non aveva mai ballato mai ballato le gare quindi sono contento faccio i complimenti a loro e che devo dirvi ragazzi grazie di aver visto questo video vi do appuntamento con i prossimi ciao